cari amici salviamo tutto registriamo tutto fotografiamo tutto archiviamo tutti i giornali in cartaceo perché poi diranno che non hanno detto quello che hanno detto che non è vero che sono tutte falsità che non sono stati compresi eccetera eccetera diego fusaro riporta un post di burrioni di roberto burrioni secondo il quale i vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi poco contagiosi la loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei non vaccinati alla faccia della costituzione e dei diritti personali potranno certamente viaggiare infatti possono andare all'estero mentre noi siamo bloccati qui e godersi la vacanza con maggiore tranquillità per evitare questa ingiustizia e c'è solo un modo naturalmente il modo qual è vaccinare 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 ma la parte saliente è l'incipit i vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi non per nulla contagiosi ma pensi poco contagiosi ve lo faccio vedere ancora questo dice il fazioso fazio il fazioso burrioni il fazioso burrioni i vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi norimberga 2 e alle porte serve raccogliere prove ed è quello che stiamo facendo in tanti e dobbiamo farlo tutti vi invito a iscrivervi al mio canale se non vi siete ancora iscritti vi invito a mettere il like il like aiuta la visibilità dei contenuti ma soprattutto vi invito a raccogliere prove 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 è il motivo anche per cui faccio questi video visti da tanti visti da pochi non me ne frega niente tutto rimane in rete e sono documenti che torneranno utili perché presto questi signori dovranno rendere conto in un processo regolare in un processo regolare perché noi non siamo come loro noi siamo democratici rispettiamo la legge dovranno rendere conto delle loro male fatte grazie e al prossimo video